Garia Bignardi, non vi lascerò orfani Eravamo rimasti Non ero sicura di volerla aver morta Io ricordo mai rimosso di mio padre e mi frenava La dottoressa mi ha detto Decida lei, ma se fosse la mia mamma io vorrei vederla Ancora la ringrazio per quelle parole Soprattutto del fatto che abbia detto alla mia mamma Come una bambina Non era più la mia mamma quel corpo già rimpicciolito sotto al lenzuolo Quel volto blu astro con gli occhi sarrati E le labbra tirate dentro la bocca La testa con i cappelli in ordine Perché era stata dalla parrucchiera pochi giorni prima La fronte ancora tiepida che ho subito baciato L'abbiamo abbracciata, baciata, accarezzata Chiamata tesora e salutata Ma lei non c'era più Poi siamo andati a casa di dolatella a bere una camomilla Per stare ancora un po' insieme Per non separarci subito Per ripeterci ancora una volta Tutte le parole di quella sera e di quella giornata Ci guardavamo in faccia cercando l'una e nell'altra La prova che fosse successo davvero Non ci potevamo credere Non poteva essere successo veramente Non alla nostra terribile e temibile madre Inaffondabile E immortale Più tardi Luca e io siamo andati al solito albergo Dove stiamo a Ferrara Erano le tanti notte passate Ho pianto fino al mattino Non delire di frasi S'inghiozzi a lacrime Riuscendo a dormire solo pochi istanti A risveglio ci siamo dati appuntamento Con Don Natale e Stefano All'impresa di pompe funebri Il funerale sarebbe stato due giorni dopo Ho dettato al necrologio E abbiamo scelto la casa più bella Chiara e lucida Foderata di raso rosa Paldido A noi piaceva più l'azzurro Ma il responsabile delle pompe funebri Un uomo altissimo Con i capelli bianchi Ci ha detto con sicurezza Che l'azzurro era da maschio Ed era meglio di no Poi siamo andati a casa della mamma Prima di salire con gli altri Nella casa vuoto Ho fatto un giretto nei dintorni Volevo camminare sui suoi passi quotidiani Guardare quello che vedeva lei Respirare la stessa aria E ascoltare gli stessi rumori Volevo tenerla ancora un po' con mano Mi sono incamminata sul percorso Che facevo ogni giorno Per andare a bere un cappuccino al bar Le nostre telefonate del mattino Trattavano sempre l'argomento cappuccino Sei andata a bere il cappuccino Vai a bere un cappuccino La esortavo Perché facesse almeno un po' di esercizio quotidiano Quando d'inverno tendeva a impigrirsi E a non uscire ogni giorno Era un bar aperto da poco E non l'avevo mai visto Una latteria gestita da una signora di mazzetta Cercavo tracce della mamma In quella donna che la incontrava tutti i giorni Mentre io la vedevo solo ogni tanto Ho chiesto un caffè E gli ho detto che quella notte era morta mia madre L'ho descritta Una signora di 84 anni Bruna e un po' grossa Alta, abbronzata Che ogni mattina andava lì a bere il cappuccino Lei ha faticato a capire Ha detto che conosceva una signora E corrispondeva alla mia descrizione Ma le aveva detto di avere 78 anni Mi è sembrato bello che la mamma si fosse calata agli anni In effetti non dimostrava per niente la sua età Occhio Ok Il pane Grazie a tutti.